buongiorno a tutti e benvenuti eccoci qua allora oggi siamo al parco al parco aurora questo parco che si trova a roma e che è dedicato dai genitori alla loro piccolina che purtroppo non c'è più aurora aveva sei mesi una brutta malattia e i genitori per mantenere il suo ricordo e fare qualcosa di costruttivo dopo questa bruttissima tragedia hanno creato questo parco e che ora vi faremo vedere nella descrizione scriveremo il link per raggiungerlo quindi se siete di roma venite qua a vedere il parco perché è bellissimo hanno da poco anche inaugurato il campetto di calcio quindi se diciamo i bambini non sono interessati ai giochi normali c'è anche il cappetto di calcio è veramente bellissimo vi ci portiamo oltre tutto oggi melissa registrerà le altre puntate di della posta di maru della posta di maru se non avete visto iscrivetevi al canale perché maru maru è un personaggio che adesso vedremo che rappresenta la federazione italiana di baseball e softball e maru maru e c'è anche il fumetto ce l'abbiamo a casa e maru maru praticamente ha aperto questa rubrica carina in cui i bambini scrivono le loro lettere e la sua creatrice esatto la sua creatrice mitsu insieme a melissa le leggono oltretutto mitsu è una disegnatrice di fumetti e quindi crea delle vignette con i disegni che mandano i bambini quindi se volete vi mandiamo mettiamo sempre in descrizione l'email di mitsu potete fare un disegno e lei crea il fumetto del vostro disegno andiamo a vedere il parco aurora ok andiamo a vedere il parco aurora vai meli faccelo vedere è chiuso da un cancello chiaramente ecco qua parca aurora in memoria di aurora troianelli il sito su qui potete vedere questo questo parco si chiama per aurora puntocom e questo è il meraviglioso parco che hanno creato creato i genitori di aurora con l'aiuto di tanti amici ma guardate quanto è bello illuminato dall'energia solare quindi veramente uno spettacolo ci sono giochi è tutto molto pulito il pavimento è morbido proprio per permettere ai bambini di giocare in sicurezza i giochi sono veramente tenuti molto molto bene e laggiù come vi dicevo c'è il campo di calcio che è stato diciamo inaugurato da qualche giorno quindi adesso hanno anche un'area in più che è un'area importante oltretutto le altalene oltretutto qua hanno messo anche la vasca diciamo della sabbia per far giocare anche più piccolini quindi con la sabbia poi ci sono dei tavoli e a cui c'è questo albero con le panchinette molto carino che è stato piantato dal clan eccomi del gruppo scout a jesci quindi regalato proprio dagli scout a questo parco meraviglioso poi va bene è veramente io lo sto facendo vedere così ma lo capite da voi che questo parco è meraviglioso e si trova anche in questa zona comunque verde in mezzo comunque ai palazzi ma sono palazzine basse quindi comunque molto tranquillo e secondo me se siete di roma ci dovete fare un salto è un'iniziativa lodevole da parte dei genitori di questa piccola che nonostante il dolore hanno capito che si poteva creare qualcosa di tangibile il ricordo dell'amore che loro avevano per la loro bambina è il modo giusto per trasformare un dolore in qualcosa di bello intanto laggiù abbiamo marumaru che sta facendo le varie prove abbraccia tutti i bambini e intanto melissa sta giocando nei giochi ai giochi che fai hai rinunciato però come carino marumaru quando cammina guardalo non c'era melissa ma non ce la fai a fare nulla a salire qua ecco a salire qua ci riesce è bellissimo questo parco è veramente bellissimo ok mentre loro fanno le riprese sono consensime questa struttura ad esempio probabilmente è stata regalata dalla nazionale italiana cantanti e quindi c'è anche un'area molto verina per far giocare sempre più piccolini e veramente il parco è per tutte le età è perché se i più piccoli giocano lì grandi giocano di qua i genitori si mettono seduti sulle panchine e poi più granicelli ancora possono andare al campo di calcio lo so sembra una storia triste molto triste però ricordatevi una cosa che quando voi verrete in questo parco e giocherete e riderete di cuore aurora vi sentirà e lei sarà sicuramente molto felice quindi venite al parco aurora venite a giocare qua e venite a ridere e scherzare perché tutte le vostre risate tutti i vostri giochi tutti i vostri scherzi arriveranno direttamente ad aurora quindi se siete a roma fatevi portare dai vostri genitori in questo parco e vedrete con i vostri occhi quanto è bello è veramente bellissimo ecco qua marumaru va sull'altalena mi sa che non ce la fa allora il successo di marumaru al parco aurora è indescrivibile e quindi marumaru va via con i bambini che lo salutano eccoci qua allora le riprese di marumaru sono finite noi andiamo via dal parco aurora vi ricordiamo lo mettiamo in descrizione se siete a roma venite in questo parco perché è veramente bellissimo e vabbè ci abbiamo lasciato un pezzetto di cuore vero allora noi vi salutiamo in questo video salutiamo anche sofia e emma sofia e emma vi ricordiamo che se volete saluti sul canale basta scriverci qua nei commenti qua sotto il vostro nome scrivete proprio mi salutate mi chiamo e noi nei prossimi video faremo i saluti a voi iscrivetevi al canale lasciate la campanellina e ci vediamo al prossimo video ciao